Siamo stati chiamati qui per partecipare alla ristrutturazione di Palazzo Chizzarotti. È una bella cosa perché tanti baresi aspettavano questa ristrutturazione da anni. Queste progettazioni si scontrano sempre con quello che è la realtà e quindi abbiamo dovuto fare delle modifiche in corso d'opera. Ad esempio non ci è concesso bucare la facciata del palazzo perché appunto è un palazzo prestigioso e quindi ci dovremmo impegnare a fare altri tipi di ancoraggi, quindi un lavoro praticamente diverso dal solito. I torrini avendo una forma appunto di cupola vanno a richiudersi e dobbiamo trovare diciamo delle soluzioni per fare effettuare i restauri nella maniera migliore possibile. Essendo baresi diciamo un palazzo del genere, cominciando la ristrutturazione è qualcosa in più pure per la città. Grazie. 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 Grazie.